e il momento dello sneaky sneaky lollo no non dirmi che non dirmi che stanno andando a consegnare no quella non è l'avamposto direzione forse più avanti quello non è un avamposto ok allora recuperiamo la scialuppina col barile e andiamo lì con la scialuppina sperando che si fermino lì a perché se non si fermano lì sono delle capre perché non è neanche direzione da dire prendo vento migliore vado più a sinistra se vuole vado recuperare il barile esplosivo ritira su tutto tira su tutto se vuoi fai in tempo a fare un giro veloce vedere se ne troviamo altri spegni la luce della scialuppa se è accesa attacchiamo dietro no no si comunque sono andati a crooked must ma qui c'era il barile o porco cane siamo in barile se non c'è non c'è più ed è spawnato allora aspetta lo cerchiamo ah no eccolo qua eccolo qua non l'avevo visto trovato preparare a scialuppina andiamo se carico di banane tutto pronto per il combattimento non ti dici poi di cannone se nel caso si riuscisse a tirare a mano esatto aspetta dove sta sta scialpino è qua io so tutto lollo so tutto nei minimi dettagli non hai preparato sta scialpino a limo touch no è a destra lì dove sei tu io te la metto la bacca so tutto so tutto allora la direzione direzione allora vai più a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra ancora ancora ok no no so tutto so tutto oh perché non vedo più il galeone mo che sono già partiti di nuovo alzati un po' in piedi sto già guardando con cannocchiali ma non vedo nulla potrebbero essere dall'altro lato ah no no ci sono ci sono è lì è lì non si vede perché gli alberi gli alberi gli alberi si confondono con lo sfondo dell'isola proviamo a arrivare sotto nave vediamo com'è la situazione non usare cannocchiali che potrebbero no no tranquillo ma sono coperti da lì dalla siluette dell'isola ah ok si è vero adesso intravedo eccoli qua adesso si intravedono attenzione robo attack sneaky sneaky vediamo se funziona siediti siediti pandi siediti di mortacci tua e non mettili all'arma che mi fai esplodere e si smette a dormire scusavo mio padre che mi chiedeva una cosa per lavoro allora loro adesso sono visibili quindi più che visibili ma ti voglio andare proprio dietro dietro con la barca o vuoi fare in questa moto voglio fare proprio dietro dietro con la barca sì perché pandi è luminoso non è sneaky non capisce l'arte dell'essere sneaky con i vestiti se me l'avessi accennato l'avrei cambiato non ti ho pensato siamo arrivati è tutto tranquillo loro non se lo aspettano perché vado io? no andiamo insieme resta sulla parte superiore del ponte io vado sotto queste sono le scale Cristo siamo arrivati da dietro quindi un po' di tesori difendi difendi il sopra stai sul retro della nave ok io difendo i buchi ultimo piano sta salendo col tesoro ultimo piano preso acqua pieno sono al secondo piano si è buttato acqua al secondo piano sta scendendo sta scendendo colpito colpito uccisi due affondati ok perfetto io ti salgo subito sulla nave vieni esatto arriva con la nave vieni la scialuppa e vattene via piuttosto no no devono vedere gli altri che rispondono snicchi snicchi adesso vediamo gli altri damerini guarda la bandiera ma con che bandiera andate in giro ma vergognatevi non siete degni di indossare quella bandiera in arrivo avevano anche altro loot si 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 avevano 7 tesori molto bene queste sono le azioni piratesche che mi piacciono che non so fare come non so fare l'abbiamo fatto l'abbiamo appena fatto insieme hai fatto tre quarti del pvp e hai fatto tutto io ho fatto due colpi in faccia a quelli che erano in acqua è una spadata ho sentito per un attimo un rumore di barile che esplode non è vero pandi è stato fondamentale anche tu per tenerli ok eh avevano qualche missioncina l'avevano fatta i bomberoni tanti bei capitani in grog bello 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 per una sirenetta esatto io mi fermo più lontano in modo che ti avvicini tu con la scialuppa così loro non arrivano sulla barca come si è messo? ho tirato su tutto arrivo è stato un piacere bombers e questa si che è un'azione da talleri dobbiamo mollare i talleri anche qui antrazione eroica è stato un piacere non è stato un piacere